Sergio Trezza torna a Bimbo Days per due giorni nel fine settimana e la centro della città diventa un villaggio per l'infanzia e per i più piccoli. Siamo alle battute finale. Io sono stanchissimo, sfinito, lo dico con molta onestà e c'è ancora tanto da lavorare, ma tantissimo, perché c'è qualche ritardo. Però credo che, alla fine, come tutte le cose, l'impegno, la passione, la dedizione e l'amore per questa città, per questo evento, credo che daremo un evento, non dico eccezionale, di più, perché il villaggio che verrà quest'anno è unico nel suo genere. Ci saranno strutture che verranno montate per la prima volta da Avellino, quindi avremo un bimbo d'essine esclusiva a livello nazionale. Il mio sogno è sempre stato quello. Avellino, città dell'infanzia, si può fare, deve essere uno slogan, ma deve essere di riferimento all'amministrazione che verrà per una progettualità che investe molto sull'infanzia e quindi sugli ultimi. Io, poiché, mi sono sempre dedicato alle persone più bisognose, agli ultimi, farò di tutto affinché questa manifestazione diventa un appuntamento fisso per la città di Avellino, ma soprattutto, Massimo, me lo devi consentire, questo è un evento da città di Capoluogo, perché si sente nell'aria il patrimonio della città avellinese, della comunità avellinese. Lo tengo a dire, io l'ho ideato, lo organizzo, ma io lo dono alla mia città, lo regalo. Se ci sono persone che vogliono darci una mano, sono il benvenuto, perché noi vogliamo solo il bene della nostra comunità, dei più deboli, dei bambini e delle famiglie. Quindi, se ci sarà qualcuno che vorrà far parte di questo progetto, io sono pronto a farmi da parte, a contribuire sempre. Però, credo che dopo il successo di quest'anno, perché abbiamo avuto l'Unione dei Commercianti, degli sponsor Rubicondo, Italiana Assicurazioni, tantissimi sponsor ci hanno dato una mano. Hanno chiamato loro noi, vuol dire che l'evento è sentito e quando è sentito dai commercianti, da tutti questi sponsor che hanno una caratura non solo locale, ma anche nazionale, beh, vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo realizzato. Quindi diventa patrimonio della comunità bellini. Se di questo ne sono orgoglioso, anche perché si è partiti dal niente, credo che abbiamo realizzato un evento bellissimo. Un evento eccezionale che vedrà protagonisti bambini e soprattutto anche con un marchio, quello della Panini, che accompagnerà questi due giorni. Ma questa è stata una sorpresa che è arrivata ieri alle 12.46 minuti. E mi va di ringraziare Carmine Loffredo, il distributore di giornali a livello regionale, perché quando ne parlai qualche mese fa di poter contattare la Panini, anche se l'avevo contattato io, ci volevo un referente per arrivare agli amministratori. Carmine è stato non bravo di più e ha veicolato la nostra richiesta di sponsorizzazione insieme, quindi abbiamo contribuito insieme alla realizzazione di questa bellissima cosa. La Panini ieri ha risposto, quindi farà veicolare tutti i gadget, sono circa 4.000, tra le figurine d'album dei personaggi di oggi. Quindi ci saranno album e figurine di Masce Urso, degli Avengers, di Toy Story, dei calciatori. Noi li distribuiremo in omaggio a tutti i bambini, che non solo faranno parte del Bimbo Days, ma a tutti i bambini che verranno alla manifestazione, a prescindere perché questo è un bene di tutti, è la manifestazione di tutti, ed è una manifestazione a cui io tengo in modo particolare e che desidero che vada avanti, perché sono convinto che questo diventerà un appuntamento fisso nazionale, perché ha le potenzialità, perché la Piazza Libertà e Piazza Garibaldi si prestano a questo tipo di iniziative e poi si crea ricchezza, lavoreranno i commercianti e di questo ne sono molto contento. Parliamo della finalità benefica dell'evento. Allora, io gli altri due anni avevo dato dei contributi alla fibrosicistica ai bambini vittime di femminicidio. Quest'anno abbiamo fatto un ragionamento diverso, perché è un evento per i bambini, abbiamo cercato di individuare con l'ospedale Moscati, i reparti di pediatria, di neuropsiciatria infantile e di genetica medica. Cosa abbiamo fatto? Una cosa semplice Massimo, quella di dire cosa può servire ai bambini per poter regalargli un sorriso. Quindi non daremo un contributo, perché non si dà un contributo, ma acquisteremo del materiale che possa essere utile affinché i bambini in difficoltà possono con piccole cose, con piccoli strumenti regalargli un sorriso. E questo lo decideremo dopo l'evento con l'azienda ospedale. Oppure regaleremo una parete attrezzata di giochi, questo lo vedremo. L'importante è la finalità dell'evento, stare vicino ai più deboli e ai bambini.